Sao viene da lontano, da un'isola al largo della costa africana, da una forza antica, dalla saggezza delle pietre e degli uccelli. Sogna di studiare medicina, di emigrare in Europa e riscattarsi dalla miseria nera. Aproda Lisbona le sembra un luogo di salvezza. Cercano a casa, un lavoro, la dignità di stare al mondo e convinta che nulla la possa fermare. La minaccia in effetti è del tutto inaspettata. Proviene dal terreno insidioso dell'amore. Insidia la sua integrità di donna e di madre. La sottopone a prove tremende, costringendola a ricominciare da capo. Ma lei è la forza degli alberi, che si radicano profondamente nella terra e resistono a tutti i venti. E lotterà come un amazzone per difendere il suo piccolo Andrè. Questa è la storia di Sao, ma anche la storia di Natercia, Benvida, Liliana, una catena di donne, con le loro fatiche e il loro coraggio, con i loro piaceri. Le loro strade si incrociano con quella di una donna europea, colta, benestante, che vive nella paura, che perde per paura l'uomo che ama. E scopre il mondo per la prima volta quando lo guarda con gli occhi e con il cuore di Sao, perché di tutte le persone che ha conosciuto al mondo, Sao è quella che ammira di più. Un romanzo di amicizie, guerre e alleanze. Un romanzo d'amore ed avventura. Una storia vera.